Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove ci sono code per lavori tra Versilia e l'allacciamento con raccordo Lucca-Viareggio in direzione Livorno. Sulla FIPILI, code per lavori tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Sono possibili disagi tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Est per un incidente avvenuto in direzione Firenze. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia, provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Sulla statale Due Via Cassia, senso unico alternato per lavori tra i chilometri 150-700 e 151 a Radicofani, in provincia di Siena. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!